Ciao a tutti, io sono Sofia e oggi vi elenco gli ingredienti per la preparazione del nostro riso del Sinis. Riso falchi carnalori, olio, sale, pepe, vino bianco, carciofi spinosi del Sinis, un mazzetto di prezzemolo, gambele rossi del nostro mare, due spicchi di aglio e una cipolla tritata. Ora vi farò vedere la preparazione. Mettiamo un po' di cipolla, insieme a un po' di olio. Mescoliamo bene. Dopo averlo fatto rosolare, mettiamo il nostro riso carnaloli, falchi. Dopo aver fatto rosolare il nostro riso falchi, andiamo a sfumare con il nostro vino bianco. Ho fatto stato il riso, aggiungiamo i carciofi. Con un po' di prezzemolo. Aggiungiamo un po' di sale. Ora che il riso è giunto a quasi fine cottura, aggiungiamo i gamberi. Ora il nostro riso del Sinis, lo andremo ad insaporire con un po' di aglio. Ora, alla conclusione della cottura del riso, aggiungiamo un po' di pepe. E anche un po' di olio. Il riso del Sinis è pronto per essere deliziato dai vostri palati. Ottimo, lo consiglio. Ottimo, lo consiglio.